3 dei 6 minori giunti ieri nascosti e poi scoperti in un container a bordo della nave Vento di Scirocco partita lunedì dal porto di Aliaga in Turchia sono risultati positivi asintomatici al covid-19. Di buon'ora che stamattina le ambulanze dell'associazione di volontariato Humanitas di Salerno hanno trasportato i ragazzi tra cui una coppia di fratelli al centro covid di Agropoli ma si attende ora l'esito anche di altri tamponi effettuati sui componenti del gruppo. 8 uomini, 12 donne e 6 minori che di origine kurda è fuggito dall'Iraq e dopo aver tentato di introdursi clandestinamente nel territorio italiano ha chiesto ieri lo stato di rifugiati politici. La maggior parte di loro è oggi in buone condizioni di salute considerato anche le pessime condizioni in cui hanno dovuto affrontare il viaggio durato tre giorni. La nave battente bandiera maltese è infatti salpata lunedì dalla Turchia ed è giunta nella tarda serata di mercoledì nel porto di Salerno. Quando hanno capito che il container nel quale si nascondevano era stato sbarcato a terra i clandestini hanno praticato un foro nella struttura che è stato il loro vagone e hanno tentato di uscire. Ad accoglierli però hanno trovato la polizia.